Sono quattro le strutture a retine dove sarà possibile effettuare i test sierologici rapidi per l'emergenza Covid-19. Con l'ultima ordinanza, da numero 39 firmata il 19 aprile, il presidente della regione toscana Enrico Rossi allarga il numero delle categorie alle quali sarà appunto concesso effettuare questo test in convenzione. A tutti i lavoratori che sostanzialmente sono a contatto con il pubblico si aggiungono anche i lavoratori dei servizi a domicilio, quelli dell'editoria e dell'emittenza televisiva a contatto con il pubblico, gli edicolanti, i librai, gli operatori delle agenzie di onoranze funebri e i lavoratori del distretto cartario. La regione toscana ha attivato tramite Estar le convenzioni con i laboratori privati. Per la provincia di Arezzo sono appunto quattro. San Giuseppe Analisi, Centro Diagnostico Valdichiana, SIN Lab, che ha tre sedi, una ad Arezzo, una in Valdichiana e una in Casentino, e il Laboratorio di Bioanalisi, Centro Fisioterapico Casentinese. Qualora il test sierologico rapido dovesse essere positivo o dubbio, il lavoratore dovrà porsi in quarantena ed avvertire il proprio medico di medicina generale o il medico competente. Saranno poi direttamente questi a fare richiesta all'ASL Toscana Sud-Est, che secondo la procedura disporrà tempi e modi per il tampone orofaringeo. Il test sierologico rapido non ha da solo valenza diagnostica e necessita dell'approfondimento del tampone.